Un chirurgo estetico per nascondere i segni dell'età. Un dentista perché la bellezza nasce dal sorriso. Un hair stylist consulente d'immagine perché una nuova vita comincia dalla testa. Un team di esperte pronte ad aiutare te che hai voglia di sentirti bella più di prima. Da mercoledì 29 gennaio in seconda serata sulla 5.